Da poco tempo alla guida di questa diocesi, ma lei si è già fatto conoscere nella sua comunità, tra la gente, tra i giovani, tra le persone, tra i fedeli. Qual è il messaggio allora per questo Natale? Anzitutto voglio cogliere questa occasione per ringraziare per l'accoglienza, perché davvero abbiamo vissuto una bella festa a partire proprio soprattutto dal 27 novembre e quindi il grazie, il grazie a tutte le comunità, a tutte le persone che con cordialità mi hanno accolto e proprio nell'ottica di questo incontrare le persone, la comunità, le situazioni direi che il primo messaggio è proprio il messaggio dell'incontro. Nel Natale l'annuncio è che Dio viene a incontrare noi, viene ad abitare noi nel bimbo che nasce a Betremme in Gesù e noi siamo chiamati a vivere questo incontro, anzitutto con Dio, ma poi siamo chiamati a vivere l'incontro tra di noi e allora la gioia di scoprire volti, storie, situazioni ed esserci in mezzo, penso che sia cammino che devo fare come vescovo, l'augurio che voglio portare e anche augurio che diventa invito a tutti a incontrare. Fin dai primi momenti c'è stata davvero questa empatia, insomma, anche con gli ultimi, ecco che chiesa vuole che sia, insomma, sotto la sua guida la chiesa retina? Potrei dire in modo riassuntivo, in modo sintetico, mi piacerebbe che fosse una chiesa che profuma di Vangelo. Allora, profumare di Vangelo vuol dire che c'è il profumo dei poveri, c'è il profumo della bellezza della natura, c'è il profumo dell'amicizia, c'è il profumo della preghiera, c'è il profumo del Vangelo annunciato e celebrato e per una chiesa così bisogna abitare questi luoghi e credo che io come vescovo debba farlo per primo. Allora i luoghi della fragilità, della povertà, della diversità, i luoghi della normalità della vita, le nostre famiglie, i giovani. E allora che cosa si augura, insomma, qual è l'augurio da parte sua per tutti coloro che ci ascoltano? Vorrei augurare un Natale bello, un Natale bello che vuol dire un Natale che regali il calore della famiglia per tutto ciò che può essere famiglia, le nostre comunità, i genitori con i figli, con i nonni, ecco, un Natale bello di famiglia. E poi vorrei augurare un Natale di pace, ne abbiamo bisogno per tanti luoghi della terra, pensiamo all'Ucraina e allora dobbiamo chiedere con più insistenza nella preghiera questo dono e il Natale che è annuncio di pace lo porti davvero in questo mondo così tribolato.